Musica Si sono esibiti i ragazzi della scuola, un pomeriggio all'insegna della gioia e della partecipazione, Open Day all'Istituto Don Bosco di Assisi Editore del Greco, coinvolti gli alunni dalla primaria alla secondaria di primo grado. È stata l'occasione per presentare l'offerta didattica della scuola secondaria con sezioni musicali, artistiche e scientifiche. Musica La dirigente scolastica Rosanna Mirati ha annunciato che verranno donati testi agli studenti per venire incontro alle difficoltà delle famiglie. Una piccola fornitura di libri gratuiti che non fa mai male in questo periodo, considerando le stagliate, le bollette, tutto quello che la politica non riesce a governare, non quella locale, quella nazionale chiaramente. E quindi anche quest'anno forniremo qualche testo, daremo qualche testo come abbiamo fatto negli anni scorsi, come dire, per accompagnare le famiglie in questo sforzo, che è comunque uno sforzo di cui noi ci rendiamo conto. Musica 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 Musica